Allora, stasera io parlerò di un soggetto, una predicazione, quindi spero che vi possa aiutare tanto e che possa anche spingervi, spronare, a confidare di più nel Signore per le richieste che avete. Perché a volte, sapete, quando ci sono difficoltà e problemi, la cultura, il mondo, i problemi stessi ci fanno guardare talmente verso il basso che diciamo sì, Signore, però a volte stentiamo ad alzare lo sguardo da dove ci può venire il soccorso. Ma la Bibbia dice che il soccorso viene dal Signore che ha creato cielo e terra. Dobbiamo, diciamo, puntare il nostro sguardo, i nostri pensieri, le nostre aspettative verso di Lui. Io parlerò stasera delle nozze di Cana. Ieri ci sono state le nozze, vero? Però non c'entra niente con le nozze. Una volta ho predicato, ricordo quando si sono sposati Toto e Claudia, si ricorda Claudia? Ho parlato delle nozze di Cana, ho predicato sulle nozze di Cana, però in occasione del matrimonio. Stasera non è in occasione del matrimonio, ieri c'è stato il matrimonio, ora è un'altra predicazione. Voglio spingervi più che altro a confidare nel Signore e a fare le richieste a Lui e a non spostarvi da quella posizione, ok? Nello stare davanti a Lui. E quindi leggiamo da Giovanni capitolo 2, verso 1, è una storia che conoscete tutti quanti. Spendiamo l'altro microfono. Che dice così? Tre giorni dopo si fecero delle nozze a Cana di Galilea e la madre di Gesù si trovava là. Ora anche Gesù fu invitato alle nozze con i suoi discepoli. Essendo venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse, non hanno più vino. Gesù le disse, che cosa c'è tra te e me, o donna? L'ora mia non è ancora venuta. Sua madre disse ai suoi servi, fate tutto quello che egli vi dirà. Ora c'erano là sei recipienti di pietra usati per la purificazione dei giudei che contenevano due o tre misure ciascuno. Gesù disse loro, riempite d'acqua i recipienti ed essi li riempirono fino all'orlo. Poi disse loro, ora attingete e portatene al maestro della festa. E come il maestro della festa assaggiò l'acqua mutata in vino, ora egli non sapeva da dove venisse quel vino, ma ben lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua, il maestro della festa chiamò lo sposo e gli disse, ogni uomo presenta all'inizio il vino migliore, dopo che gli invitati sono un po' brilli, hanno copiosamente bevuto, il meno buono. Tu invece hai conservato il buon vino fino ad ora. E Gesù fece questo inizio di segni in Cana di Galilea e manifestò che cosa? La sua gloria. Abbiamo parlato diverse settimane sulla gloria di Dio, vero? E i suoi discepoli credettero in lui. Quando dice qui credettero a lui non significa che prima non ci credevano, rafforzarono la loro fede in Gesù. Questo è il contempo, perché già ci seguivano Gesù. Allora noi dobbiamo, una cosa un po' tecnica per adesso, vi spiego. Le misure, c'erano lì due o tre misure ciascuno e c'erano sei recipienti. Ogni recipiente aveva due o tre misure, scusate. Due o tre misure significa la capienza, la portata. Ora una misura corrispondeva circa a 11 litri e mezzo, quindi due o tre misure, alcuni magari vassi recipienti erano di due misure, altri di tre. Significa che ogni recipiente conteneva da 23 a 35 litri di acqua di portata. E poi c'erano sei recipienti, quindi complessivamente potevano contenere da 140 a 200 litri nel caso di vino, capite? Per la festa. E questo dice la scrittura che erano vuoti. Perché erano vuoti? Perché servivano, erano destinate alla purificazione. E Gesù proprio sceglie quei vasi. Perché lui è colui che purifica. E tutto ciò che lui dichiara puro non è più impuro. Non c'è bisogno di ritualismi, non c'è bisogno di formalismi, non c'è bisogno di chissà che cosa, basta la sua parola. Amen. E allora tutto diventa puro. L'acqua. Gesù disse ai servi, cosa disse? Riempiteli di, che cosa? Di acqua. L'acqua. Perché l'acqua? Voglio dire, è normale l'acqua. Io ho visto invece un'analogia tra il riempire questi vasi di acqua, questi recipienti di acqua, con quando Dio riempì la terra. Cosa c'era sulla terra? Acqua. È vero? E quindi per certi versi Gesù si rifà alla Genesi. La Bibbia dice che quando Dio cominciò a creare, cosa c'era? La terra era piena di acqua. C'era la parola e c'era lo spirito. E quando Dio disse, e allora ci cominciò la creazione, ovvero la trasformazione dell'acqua in la terra che poi venne all'esistenza. Ma all'inizio era tutta l'acqua, perché l'acqua è anche dal punto di vista chimico, è essenziale per la vita. Senza acqua non c'è vita. È vero? E quindi vediamo che Gesù si rifà un po' alla Genesi, riprende per certi versi la Genesi. Perché lui nella Genesi all'inizio c'era, era la parola, è vero? Adesso c'è e continua ad essere la parola di Dio che trasforma. Io credo che sia molto bello questo, pensare che Dio è sempre lo stesso. E così come all'inizio della Genesi, poi in ogni tempo trasformare. Amen? Basta che ci sia qualcuno che ascolta la sua parola e fa quello che lui dice di fare. E allora Dio è sempre pronto a compiere il miracolo. In Genesi 1.1, tanto per leggere, ma non solo tanto, per confermare ciò che sto dicendo. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. La terra era in forma e vuota e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso. E lo Spirito di Dio alleggiava sulla superficie delle acque. Poi Dio disse sia la luce e la luce fu. Ma prima che ci fu la luce, guardate, l'acqua, ovvero la vita. Perché senza vita, che Dio mette, non ci può essere ulteriore vita. Amen? Quindi Gesù in modo velato si rifà un po' alla creazione. Ora, ancora notate una cosa, che ci sono lì sei recipienti. Ci sono sei misure. Ci sono sei recipienti. Ogni recipiente, abbiamo detto, che poteva contenere sei misure di acqua, di vino, di liquido, insomma. Due, tre misure che corrispondono, abbiamo detto, da 23 a 35 litri circa ogni misura. Per sei. Dio, in quanto tempo Dio fece la creazione? In sei giorni. Anche questo è un rifarsi alla Genesi. Perché ciò sta a indicare, sei, il completamento di tutto ciò che Dio vuole per gli uomini, per il bene degli uomini. E qui c'era un bisogno. È vero? Il bisogno dell'umanità, Dio lo realizzò, lo soddisfò nell'arco di sei giorni. Perché in sei giorni creò ogni cosa di ciò che l'uomo aveva di bisogno qui sulla terra. Sei recipienti per dire, io posso soddisfare ogni vostro bisogno che avete qui sulla terra. Amen? E questo è il nostro Signore, fratelli. Che meraviglioso, vero? Io stamattina riflettevo su questa cosa e dicevo, mamma mia, che Signore che abbiamo. Che meraviglioso questo nostro Signore. Guardate cosa sa fare, come ci riporta. E ci fa vedere anche, perché non è automatico che ci fa vedere certe cose, certi collegamenti. Se non è lui che ce li ispira e ce li fa vedere, ok? Ancora possiamo vedere in questa storia che solo Gesù può fare i miracoli. Nessun altro. Non a caso, Gesù dice, sembra una forma scortese di come Gesù parla alla mamma, quando la mamma giustamente vede il bisogno, come anche noi vediamo il bisogno, no? E andiamo, la mamma dice, no Gesù, non hanno più vino. Però Gesù, conoscendo profeticamente ciò che sarebbe successo dopo, sembra quasi essere scortese con la mamma quando gli dice, che c'è tra te e me o donna? L'ora mia non è ancora venuta. Qualcuno, giustamente anche, fa una parafrasi per dire, ancora mi devo sacrificare, l'ora del sacrificio. Ma è anche l'ora della soddisfazione dei bisogni dell'uomo, l'ora dei miracoli. E l'ora dei miracoli è sempre, e lo può soddisfare solo ed esclusivamente Gesù Cristo. Sta dicendo Gesù, al di fuori di io, nessuno può fare miracoli. Anche questo è il messaggio che sta portando, perché ha visto Gesù oltre, conoscendo la fine, sin dall'inizio abbiamo visto l'idolatria che ci sarebbe stata dietro e come tante persone si sarebbero affidati a persone, esseri mortali, che magari sono morti pure, per cercare di ottenere un miracolo. Pensate alla stessa Maria, che oggetto è diventato di culto, capite? E Gesù sta dicendo, mettiamo il limite a tutto ciò. solo Gesù può fare miracoli. E Maria dà un insegnamento dicendo, non si arrendano, dicendo, ha maleducato questo mio figliolo, guarda che... io ti ho educato così Gesù, eh? No. Attenti. Maria dice, fate come egli vi dice. È giusto quello che lui sta dicendo. Sta confermando le parole di Gesù. Fate tutto quello. Allora a chi ci dobbiamo rivolgere? A chi? Non solo a Gesù. Non solo a Gesù. Come non solo a Gesù? Non solo a Gesù. Solo a Gesù. Non ci dobbiamo rivolgere ad altri. Possiamo aiutarci nella preghiera gli uni gli altri. Capite? Poco fa abbiamo fatto l'intercessione, per esempio. Ma quando chiediamo qualcosa, dobbiamo chiederla solo ed esclusivamente a colui che può fare i miracoli. E questo è Gesù. Alleluia. Solo Gesù può fare i miracoli. Che cosa c'è tra te, me o donna? L'ora mia non è ancora venuta. Ora vedete, quando avviene il miracolo, cosa succede? C'è l'acqua nei recipienti. Lì c'è bisogno di due elementi affinché ci avvenga il miracolo. C'è bisogno della parola di Dio e dello Spirito Santo. All'origine abbiamo visto Genesi, lo Spirito alleggiava sulle acque e Dio disse la parola. E allora il miracolo, zack! Perché significa questo? Quanto si incontrano la parola con lo Spirito attraverso la nostra fede, il miracolo avviene. Significa questo. Gesù è lo stesso, ieri, oggi e in eterno e se nella Genesi faceva queste cose, se duemila anni fa per trasformare l'acqua in vino faceva questo, tuttora fa lo stesso. Il principio è sempre quello. Quindi ci dobbiamo accostare al Signore con piena fiducia perché i problemi nella vita sono tanti e il Signore può, può soddisfare i nostri bisogni perché noi siamo la terra, siamo quei vasi anche. Ok? Il più grande miracolo del riempimento di vasi vuoti perché anche quei vasi, quei recipienti di terra rappresentano noi stessi, noi siamo recipienti di terra. Sapete? Siamo stati presi dalla polvere della terra, siamo stati fatti dai vasi, poi Dio ci ha soffiato dentro, abbiamo ricevuto vita, poi quella vita di Dio, poi l'abbiamo perduto quella vita di Dio attraverso il peccato, siamo usciti fuori, siamo sempre recipienti di una vita che non è ancora, non è più quella di Dio, ma è la vita naturale perché Dio per la sua misericordia quando ci ha cacciati fuori dall'Eden, ovvero siamo andati noi fuori dall'Eden, non è che ci ha tolto completamente la vita, poteva dire benissimo vi tolgo il mio spirito e siete di nuovo polvere. Invece per la sua misericordia, per il suo grande amore con il quale ci ha amati, è vero che noi abbiamo rigettato il suo spirito, ma lui non ci ha tolto la vita naturale per poter così un giorno ritornare a lui. E qui c'è Gesù che ci vuole fare ritornare a lui. E vediamo questi recipienti, questi vasi, questi vasi rappresentano anche noi stessi. cosa rappresenta questo vaso vuoto? Rappresenta un vaso destinato alla purificazione e di conseguenza si rimaneva in quel modo prima o dopo si frantumava, c'era bisogno qualcuno che metteva dentro dell'acqua per la purificazione e lì c'era colui che purificava, ovvero Gesù. E anche noi stessi come vasi, fratelli miei, il Signore vuole da noi che mettiamo dentro l'acqua, ovvero che noi crediamo in Lui passando attraverso il ravvedimento e la fede. E quando noi passiamo attraverso il ravvedimento e la fede dopo aver ascoltato la parola di Dio, l'annuncio dell'Evangelo, succede un miracolo, Gesù trasforma. La Bibbia ci chiama nuova nascita, nuove creature e noi siamo passati dalla morte alla vita e non siamo passati attraverso una purificazione rituale come era nell'Antico Testamento, ma siamo passati ad una purificazione istantanea grazie all'amore di Dio, grazie alla fede che abbiamo avuto in Gesù. Nuove creature. Noi siamo nuove creature, ma ricordate che prima di essere nuove creature noi eravamo quei vasi destinati alla purificazione, ma eravamo vuoti e il Signore è venuto. Noi abbiamo messo, abbiamo fatto la nostra parte, ovvero la fede, abbiamo capito che eravamo vuoti, abbiamo capito che eravamo destinati alla distruzione, che nessuna cosa ci poteva entrare dentro. abbiamo riempito il nostro vaso di questo e Lui ci ha messo, ci ha trasformato dandoci vita. Il vino è figura di vita. Ok? Ma non bevete troppo vino, però, eh? Che fa male. Quello giusto. Stiamo parlando in un modo spirituale, logicamente. Ora vediamo qui i bisogni dell'uomo e i miracoli di Gesù. Ora, Gesù non vuole, fratelli miei, vuole darci vita, fare miracoli spirituali, ma sarebbe limitato dire che Gesù fa solo miracoli spirituali. Gesù anche fa miracoli materiali. Questo è un caso, ma ci sono tanti altri casi. Pensate alla moltiplicazione dei pani, per esempio. C'era Damiano fame, letteralmente. E Lui ha trasformato, ha moltiplicato i pani che loro mangiarono. Era pane ed erano cose materiali che poi sarebbero andate nel ventre e poi alla fine nella fogna. Giusto? E pure Gesù l'ha fatto. Non si limita soltanto a fare cose eterne, Signore, perché sa che viviamo in un tempo qui sulla Terra nel quale ci sono tanti bisogni e che Lui li può anche soddisfare. L'errore è quando pensiamo che il Signore per forza deve fare tutto. Là c'è l'errore. Ma chiedere, Lui ci dice chiedete, vi sarà dato. Dobbiamo farlo. Sperare in Lui dobbiamo farlo. Confidare in Lui dobbiamo farlo. Poi sappiamo che siamo sempre Suoi e che Lui si prende in ogni caso cura di noi. In che modo a volte a noi inaspettato, a volte non nel modo in cui pensiamo noi, però noi dobbiamo chiedere. E' Lui che fa miracoli. Lui ci dice di chiedere. E' Lui che fa miracoli. Amen. E quindi i bisogni sono tanti qui sulla Terra e Gesù fa anche questi miracoli naturali non hanno più vino. Non avevano letteralmente più vino in questo caso. Abbiamo parlato del modo spirituale ma parliamo neanche del modo naturale. Non avevano veramente più vino. E pensate in una festa ebraica dove c'erano le nozze se veniva a mancare il vino era una festa rovinata. Sarebbero stati i genitori e gli sposi sarebbero stati sulla lingua di tutte le male lingue. hai visto quel matrimonio ieri c'è stato un bellissimo matrimonio non è mancato nulla ma pensate lì che mancava il vino è arrivato a un certo punto non c'è più cibo non c'è più vino non c'è più acqua non c'è più niente e che matrimonio è stato? E' vero? Nella cultura ebraica che c'era questo senso di appartenenza anche a livello sociale molto stretto molto integro sarebbe stata una grandissima malacompassa dicono i catanesi brutta figura malacompassa sarebbe stata una grandissima brutta figura e Gesù non vuole farci fare brutta figura lui dice quando ci sono dei problemi venite parliamo discutiamo insieme è vero? dice così la scrittura e lui è capace di fare miracoli? Allora vi dico una cosa fratelli hai creduto in Gesù? eh? lo spirito di Dio abita dentro di te è vero? e la parola di Dio abita dentro di te ovvero Gesù? Gesù disse io e il padre mio verrei ma faremo dimora dentro di voi noi abbiamo la divinità dentro di noi noi non siamo divini ma portiamo la divinità dentro di noi è vero? può fare ancora miracoli il Signore? ma vi dico una cosa noi siamo già un miracolo perché già l'abbiamo sperimentato il miracolo attraverso la nostra salvezza e questo è il più grande dei miracoli perché è il miracolo eterno è quello che nessuno ci può togliere se noi non lo buttiamo via eh? nessuno ce lo può togliere io i miracoli naturali sono solo legati al tempo pensate Lazzaro risurrezione ma poi morì pensa a tutti quelli che nella biblicamente parlando hanno ricevuto il cieco il lebroso e ci sono più? ma Dio è soddisfatto quei bisogni per quel tempo della loro vita capite? e Dio è così Gesù si prende cura di noi mentre siamo qui sulla terra ma ci dice pure che c'è un valore ancora più alto di tutto questo che è la nostra salvezza quella non ce la può togliere nessuno quando una persona nasce di nuovo nasce a vita eterna viene trasportato dalle tenebre alla luce e non c'è più giudizio su di lui da un regno a un altro il regno di Dio e noi quando nasciamo di nuovo dice la Bibbia ricordate cosa dice Gesù in Giovanni capitolo 3 se uno nasce di nuovo non nasce di nuovo non può vedere il regno di Dio non può entrare nel regno di Dio noi siamo stati trasportati nel regno di Dio per vederlo e abbiamo visto che cosa quando siamo entrati nel regno di Dio fratelli miei la bellezza meravigliosa del regno di Dio ci siamo innamorati vi siete innamorati di Gesù? sapete perché vi siete innamorati di Gesù? perché siete stati trasportati dal regno delle tenebre nel suo regno e la prima cosa che tu vedi quando entri nel regno di Dio è il re ovvero Gesù e quando ti innamori di lui cominci a innamorarti di tutto ciò che c'è attorno amén ora Dio ripeto Dio si prende cura di noi Gesù si prende cura di noi e Gesù è qui in mezzo a noi e lui si prende cura totalmente della nostra vita anche quando non lo percepiamo anche quando non lo vediamo noi lo crediamo perché noi abbiamo conosciuto il Signore non perché l'abbiamo visto ma perché abbiamo creduto in Lui e noi seguiamo il Signore non perché lo vediamo ma perché continuiamo a credere in Lui e noi un giorno andremo col Signore non perché abbiamo visto il futuro materialmente passando materialmente parlando ma perché sappiamo perché crediamo che Gesù ci ha fatto una promessa sarete per sempre con me e noi saremo per sempre col Signore io credo che quando venerò da questa terra fratelli miei io me ne vado col Signore e guardate e non voglio perderlo questo treno se perdiamo questo treno abbiamo perso tutto è la cosa il tesoro più prezioso che abbiamo e dobbiamo tenerlo stretto a noi il Signore ci chiede soltanto di avere fiducia in Lui sapete perché ve lo dice la Bibbia perché se abbiamo fiducia a Lui possono succedere cose soprannaturali poco fa abbiamo cantato Yahweh Raffa Girè Adonai è vero che sono delle espressioni di Dio che Dio c'è con noi che Dio si prende cura di noi che Dio guarisce Raffa è vero che Dio è il Signore controlla tutto tutte queste cose sono tutte queste espressioni noi lo cantiamo ma ci parlano delle espressioni di Dio che governano l'universo e possono governare la nostra vita ci parlano tutte queste espressioni e notate una cosa ci dice abbi fiducia in me Efessini 3.20 dice così ora colui che può secondo la potenza che opera in noi fare smisuratamente oltre al tuo pensiero oltre a tutto ciò che ti aspetti può fare ancora di più smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo a Lui sia la gloria nella Chiesa in Cristo Gesù per tutte le generazioni nei secoli dei secoli Amen questo è il nostro Signore significa smisuratamente al di là di quanto chiediamo di quanto pensiamo significa che Lui è l'onnipotente che può ogni cosa noi chiediamo a misura capite una misura questo bisogno ma Lui può fare anche oltre e noi non è che crediamo nel Signore perché Lui può fare anche oltre intendiamoci noi crediamo nel Signore perché l'abbiamo conosciuto e lo amiamo e lo seguiamo ma dobbiamo aspettarci pure che il Signore ci sorprende dobbiamo aspettarcelo questo non dobbiamo essere rassegnati tra virgolette quando ci sono problemi che vediamo e che per tanto tempo magari non si risolvono e che ci accodiamo ai problemi più che guardare verso il Signore e dire ma il Signore può fare e io voglio credere questo io voglio sperare questo io voglio andare avanti con questa visione seguendo il Signore perché tutto ciò che noi otteniamo fratelli miei lo otteniamo per fede tutto ciò che noi possiamo sperare lo possiamo sperare perché ci crediamo fede la fede è legata alla speranza la fede è legata al futuro la fede è legata alle esigenze la fede deve essere legata ad ogni cosa perché senza fede non possiamo piacere al Signore ma no perché gli diventiamo antipatici io vedo Gerlando e Dio lo guarda dice Gerlando è senza fede che è antipatico no non è quello perché il Signore dice senza fede non si può piacere dice oh non mi piace così Gerlando devo avere più fede perché io voglio benedirti capite è l'espressione amorevole di un padre verso il figlio che dice non mi piace così figlio mio trasforma i tuoi pensieri credi che io possa aiutarti che io posso prendermi cura di te e il Signore si prende cura di noi lo credete che si prende cura di noi il Signore amè voglio concludere con un altro esempio molto brevemente questo vi ricordate il cieco di Gerico è scritto in Luca 18 35 43 che non prendiamo il cerico il cieco sentì che passava Gesù e cominciò a gridare abbi pietà di me abbi pietà di me tutti dicero ma non ci vedi neanche dove vai fratelli miei la nostra fede non è perché vediamo la nostra fede è perché crediamo è perché sappiamo che c'è Gesù quel cieco sapeva che passava Gesù non aveva bisogno di verlo di vederlo ma credeva che era lì e allora cominciò a gridare a dire Signore Raboni e Gesù guardate gli fa una domanda incredibile gli dice cosa vuoi che ti faccia da volte sembrano delle espressioni così come se il Signore non ci capisse no il Signore vuole alimentare la nostra fede il cieco cosa fece pensate il cieco come vaso quel recipiente no il cieco non disse come non vedi che sono vuoto gli mancava la salute gli mancava il Signore gli mancava la vista e invece cosa fece quel cieco riempì il suo vaso delle richieste che doveva fare al Signore riempì il suo vaso delle aspettative che aveva dal Signore riempì il suo vaso parlando di conseguenza al Signore perché la fede ci esprime con pensieri ma anche con parole amén riempì si riempì riempì quel vaso e cosa disse signore che io veda questo si riempì capite riempì questo vaso vuoto delle aspettative riempì di acqua significa perché lui era acqua ancora e quando Gesù vede l'acqua fratelli miei un recipiente pieno d'acqua non può fare almeno di fare il miracolo e quel cieco riacquistò che cosa? la vista e questo è un esempio anche di come ci dobbiamo riempire noi siamo dei vasi a volte dimentichiamo come cristiani che ci dobbiamo riempire ci dobbiamo riempire della parola di Dio ci dobbiamo riempire dello Spirito Santo che già l'abbiamo dentro queste cose capite? a volte le difficoltà le crisi i problemi ci fanno occultare queste cose che sono dentro di noi non ce li fanno vedere li mettono come all'angolo e diventano e signoreggiano nella nostra vita le difficoltà e i problemi diventano grossi enormi scaglia una pietra Golia la fede in Gesù e vedi che tutto crolla e ciò che rimane è la vittoria del Signore nella nostra vita amén quindi riempire il suo recipiente noi siamo chiamati fratelli a riempire i nostri recipienti chiediamo chiediamo a Gesù riempiamoci di fede riempiamoci di aspettativa riempiamoci di gioia aspettando queste cose riempiamoci di fiducia verso il Signore ci dobbiamo riempire qualsiasi cosa che ci sta succedendo in questo tempo in questo periodo in questo momento che non ti piace riempiti della presenza di Dio riempiti di ciò che il Signore può fare riempiti di Lui questo è riempirsi di Lui e la Bibbia dice che se noi facciamo questo guardate cosa dice Gesù disse non ti ho detto che se credi cosa vedrai la gloria di Dio e vedere la gloria di Dio fratelli miei non è un'espressione fatta che a volte noi usiamo gloria a Dio è giusto vedremo la gloria di Dio come degli slogan è molto di più di questo Giovanni 1140 sta dicendo invece che vedrai la manifestazione della presenza soprannaturale di Dio questa è la gloria di Dio vedrai la manifestazione soprannaturale della presenza di Dio ci dobbiamo riempire fratelli miei e io vi do questo incoraggiamento questa sera qualsiasi problema stai affrontando qualsiasi difficoltà sta davanti a te non fissarti sul problema il problema c'è intendiamo non significa che non lo vedi c'è noi non neghiamo quei problemi quando ci sono assolutamente ma noi promuoviamo la potenza di Dio sui problemi sulle difficoltà e allora in questo periodo se c'è qualcosa che ti affligge qualcosa che non riesci a risolvere non fissarti su quelle cose che ti fanno andare sempre più giù guarda in alto comincia a confidare nel Signore comincia a vedere il suo intervento nella tua vita che può risolvere quel problema quella difficoltà che può trasformare l'acqua naturale in vino soprannaturale amèn il vino di Dio che significa il miracolo di Dio ci siamo in piedi gloria Gesù alleluia di Dio di Dio di Dio Grazie a tutti.